Guarda come si fanno male! Guarda come si fanno male! Vai, aspetta che io vado tutto sopra! Di via, va su quell'aria, no? Ma perché Giampiero parla male, ma in realtà poi è peggio. No, grazie, ho smesso io. Io dovrei essere il moderatore di tutti quanti in me. Guardalo, guardalo! Sono il vicepresidente degli archivi. Dai, mulo! Via, via, via! come sputtanana compagnia seria la mano assolutamente no ha qualcosa da dichiarare si venite tutti quanti in piazza vi aspetto ciao